Buongiorno Davido, oggi vado dritto al punto perché dobbiamo parlare di tante tante cose e sono pure stanco, sono abbastanza stanco, c'è molto caldo e poi ieri il mio treno ha avuto un'ora e dieci minuti di ritardo su un viaggio di un'ora grazie Italo, ero a Milano e per tornare a Bologna sono tornato un'ora dopo, un'ora e dieci dopo grazie a questo piccolo guasto sul treno che poi naturalmente non aveva l'aria condizionata funzionante e non funzionavano neanche le prese di corrente, insomma questo è stato il viaggio della speranza che poi mi ha condotto fino a casa ero a Milano perché ero a Milano perché dovevo registrare il podcastino, l'altro podcastino che faccio che è Continuous Delivery e in effetti, eccola qua, la puntata è uscita appunto ieri sera e questa è una piccola preview di quello che potrete trovare e vedete che l'ospite è abbastanza illustre perché Gabriele Columbro che è il General Manager della Linux Foundation Europe è stata una puntata molto figa, molto interessante, veloce, divertente e lui naturalmente è un personaggio molto interessante come naturalmente esperienze, come opinioni, con le responsabilità che ha, i legami che ha abbiamo parlato di Cyber Resilience Act, abbiamo parlato di tante cose, di open source ovviamente e quindi vi consiglio di seguirlo se vi piacciono questi temi perché ospiti di questo calibro, di questo genere raramente insomma si riescono a intercettare in Italia, in italiano e quindi vale la pena, insomma, secondo me, lo dico per voi ecco, se vi interessano questi temi, andare a seguirvi anche questi 50 minuti di puntata su appunto con appunto Gabriele Columbro sui canali di Continuous Delivery ma chiudiamo insomma questa piccola premessa e andiamo alla ciccia di oggi, cioè alle news di oggi e partiamo dal V3C o W3C, insomma World Wide Web Consortium, come ben sapete che dopo anni, davvero una quantità inenarrabile di anni, poi non sono andato a informarmi ma erano talmente tanti anni che, insomma, il V3C aveva lo stesso sito web, lo ricorderete tutti bene da oggi, in realtà da ieri sera, ha un nuovo sito, è stato deployato il nuovo sito del V3C ed eccolo qua, questo è il nuovo sito, lo sto facendo vedere per chi mi sta anche seguendo in video e niente, insomma, un design moderno, focus sull'accessibilità focus soprattutto sull'accessibilità e sulla creazione e gestione di contenuti io sono uno di quelli che ha seguito i blog post del V3C poi non ne abbiamo parlato tanto qua al podcast però è stato interessante seguire tutto il processo che il V3C poi ha documentato ha raccontato, che ha portato alla definizione, creazione e poi deploy di questo sito web quindi è comunque interessante vedere un progetto portato a complimento un progetto che è durato tre anni, quindi non una cosetta, è una cosa abbastanza lunga il sito è stato realizzato con CraftCMS all'epoca c'erano state un po' di discussioni, non dico polemiche, ma un po' di discussioni sul fatto di aver scelto un CMS commerciale, un prodotto commerciale è un prodotto che ha il codice aperto perché potete andare su GitHub a vedere il codice sorgente però non è open source, nel senso che non ha una licenza open source è una licenza proprietaria lo potete usare liberamente come sito personale ma se avete un sito di un'azienda, insomma, dovete pagare c'è un pricing, eccetera però V3C ha spiegato a lungo e dettagliatamente perché ha scelto CraftCMS e soprattutto le ragioni erano sulle sue capabilità sull'accessibilità e la gestione dei contenuti insomma, ha un suo senso questa scelta e se vi interessa vi invito anche ad andare a recuperare un po' di post dove spiegano questo processo e cosa è successo vado a approfittare del fatto che sto parlando di V3C per segnalare due recommendation di V3C sapete che le recommendation sono quelle API web che il V3C definisce, propone, testa fa un processo di review assieme naturalmente ai grandi big del web, ai grandi browser e poi pubblica questi paper che hanno vari step, dalle proposte, i draft e poi appunto le recommendation che anche qui hanno vari livelli e ce ne sono due uscite negli giorni scorsi che sono molto interessanti e se siete sviluppatori web come me insomma dovete capire, dovete sapere vale la pena insomma sapere una riguarda i pagamenti si chiama Secure Payment Confirmation e eccola qua è appunto una recommendation che mira a fornire un API per il browser per richiedere appunto la conferma di un pagamento trovate quindi la recommendation che attualmente è in Candidate Recommendation Draft quindi è sì una recommendation ma è draft nel senso che quindi è ancora intanto è candidate quindi non è ancora ufficialmente frizzata supportata da V3C e poi è draft nel senso che è ancora ongoing ci sono ancora delle proposte che stanno venendo aggiunte però diciamo che non cambierà tanto nella sua sostanza quindi è già sfruttabile già studiabile soprattutto e come vedete qua è anche già supportata pienamente da Chrome e da Edge che naturalmente si basano sullo stesso engine è zero supportata da Firefox questo purtroppo e ha un qualche piccolo inizio di supporto da Safari ma poca cosa fondamentalmente sta in Chrome e Edge e quindi vedete qua c'è tutta la descrizione di che cosa fa Secure Payment e come usare questa API passando prima dall'autenticazione naturalmente anche qua con l'API di autenticazione e poi richiamando Payment Request questo è l'oggetto vero dell'API l'oggetto Payment Request con alcuni poi metodi supportati e se già andate su MDN trovate tutta la documentazione su come sfruttare, come usare Payment Request dal constructor e tutti poi i metodi di questo oggetto e vedete nella tabella dei browser supportati che naturalmente c'è come dicevamo Chrome e Edge al 100% anche Opera e Safari che hanno un inizio di implementazione e Firefox invece non c'è per niente però arriverà sicuramente il supporto almeno si spera quindi è un'API da studiare perché vuol dire poter implementare metodi di pagamento e conferme di pagamento senza usare plugin di terze parti senza usare librerie di terze parti potendo usare un'API ufficialmente supportata dal browser e indicata, supportata dal V3C e questo è molto importante tra l'altro è stata fatta questo draft, questa recommendation in collaborazione è stata definita in collaborazione con la Fido Alliance se vi ricordate puntate fa molte puntate fa abbiamo parlato di che cos'è la Fido Alliance si occupa naturalmente di autenticazione e lavora a stretto contatto anche con il V3C per definire appunto l'autenticazione sapete WebAuto è il nuovo standard per l'autenticazione le pass keys eccetera eccetera magari ci torniamo più approfonditamente se interessa questo tema comunque è un lavoro fatto anche di concerto con la Fido Alliance quindi è piuttosto solida ecco questa questa non è una proposta andata lì è piuttosto solida quindi vale la pena studiarla come vale la pena studiare anche la WebShare API che adesso è una V3C recommendation vuol dire proprio che è stabile come dice il nome è un API per aprire una finestra di dialogo per lo share quindi metterà quindi i browser metteranno a disposizione questa API per permettergli di fare lo share di una URL quindi di una pagina ma anche di altri tipi di risorse un'immagine un file eccetera e quindi questo è il paper con la recommendation vedete che si tratta dell'API navigator punto share e su mdn trovate l'API navigator punto share con la sua tabella di compatibilità che è supportata da Chrome Edge naturalmente e anche da Opera e Safari Firefox invece ancora non la supporta speriamo che appunto arrivi questo supporto anche da Firefox che è un browser che amiamo ed apprezziamo e quindi forza Mozilla che c'è bisogno di andare a rincorrere e chiudiamo quindi capitolo V3C apriamo un piccolo capitolo polemico e approfitto di DHH che sulle polemiche proprio è il campione del mondo naturalmente conoscete David Einemeyer Hanson creatore di Ruby on Rails CEO di Basecamp di Hey eccetera eccetera grandissimo polemizzatore per non dire troll del web però questa volta sfrutto un suo post un suo post di due giorni fa che si intitola You Can't Trust Google abbastanza esplicativo sfrutto questo blog post per andare a infilarci la notizia in questo blog post DHH si lamenta dell'impossibilità di fidarsi di Google quindi di andare a comprare un servizio di Google per quanto facilmente Google poi chiude questi servizi e il pretesto la causa scatenante di questa ira di questa invettiva di DHH è il fatto che Google ha chiuso o perlomeno ha trasferito tutta la ownership e l'infrastruttura di Google Domains a Squarespace su Ars Tecnica poi vi invito a leggere l'articolo più approfondito che va a spiegare che cosa è successo appunto che Google Domains questo servizio che permette di comprare domini registrare domini poi anche gestire il DNS secure DNS una serie di impostazioni con una dashboard anche ben fatta non diciamo a prezzi super concorrenziali però con un bel servizio costruito attorno e tra l'altro ben integrato con Gmail con Workspace con Google Cloud anche perché c'era Domains for Cloud insomma un servizio che nessuno di cui nessuno si era lamentato non pareva essere uno di quei famosi rami secchi da tagliare e invece a quanto pare per Google lo era per concentrarsi su altre aree di business Google ha deciso di prendere in toto Google Domains e di venderla a Squarespace e Squarespace quindi pagherà un deal pagherà insomma una cifra a Google per comprare tutta questa infrastruttura chi ha come il sottoscritto tra l'altro dei domini su Google Domains si ritroverà cliente di Squarespace quindi si ritroverà con questa gestione Squarespace dei propri domini e Squarespace ha appunto confermato che per un anno le condizioni economiche del servizio rimarranno le stesse dopo si applicheranno le condizioni che deciderà Squarespace quindi avete praticamente un anno di tempo da adesso per decidere cosa fare dei vostri dei vostri domini nel frattempo saranno migrati a Squarespace ma tornando a DHH insomma l'invettiva è abbastanza a dir la verità condivisibile nel senso che con Stadia già all'inizio di quest'anno se vi ricordate ma poi con il famoso cimitero dei servizi di Google diciamo che la nomea di Google è quella di un'azienda che appena ha voglia perché non si può definire altrimenti chiude un dominio poi certo scusate un servizio poi certo si può andare a si può andare a investigare a scoprire magari che un servizio viene testato sul mercato se ne vanno a scoprire i benefici naturalmente in termini di business per Google quando un servizio non funziona allora Google decide di chiuderlo passare ad altro concentrarsi su altro è vero però è vero anche che alcuni servizi sembravano essere intanto tecnicamente all'avanguardia come ad esempio era Stadia e come è o era ormai Google Domains ma nonostante questo in termini di business per Google queste cose non andavano bene e quindi decidono di chiuderli e di chillarli mettetevi nei panni di un'azienda che investe o decide grossi investimenti basati su servizi di Google che magari poi vengono chiusi con un preavviso anche scarso e queste cose succedono perché se vi ricordate la vicenda Stadia ci sono studi di progettazione di videogiochi che hanno basato un business un progetto su Stadia e poi questo gli è stato chiuso e investimenti sono andati in fumo nel piccolo del mercato consumer pensate ricordate cosa è successo con Nest Nest un prodotto all'avanguardia nella gestione domestica degli impianti di riscaldamento Nest lancia questo prodotto sul mercato dopo poco viene acquisita da Google si pensa che Google voglia implementare voglia aggiungere cose voglia creare tutta un'area del suo business dedicata al smart home a questi dispositivi in realtà Nest praticamente muore di fatto non vengono fatte innovazioni i servizi i dispositivi sono gli stessi che c'erano quando Nest fu acquisita il software non è stato mai aggiornato e fondamentalmente Nest rimane formalmente un'azienda di proprietà di Google che vende e produce termostati e servizi per Google però di fatto non fa più niente di innovativo da un sacco di tempo non lanciano i prodotti e mi immagino che fra un po' diciamo che è una di quelle candidate alla morte nel numeroso ormai servizio di cimiteria di Google e quindi vi lascio questo articolo e anche l'approfondimento di Ars Tecnica per capire cosa è successo intorno a Google Domains chiudiamo anche qua la vicenda Google piccolissimo corollario alla fine per aggiornamentini su Reddit Drama su Reddit Drama vi invito a leggere questo articolo di New York Times che si chiama Thousand of Reddit Communities Stay Dark e come dice il titolo ci sono ancora migliaia di subreddit che sono chiusi o con limitazione al posting e quindi la protesta continua non si è fermata e l'articolo va in profondità a riepilogare e a capire cosa sta succedendo c'è naturalmente citato anche il buon Joel Oliver che compare come protagonista ormai in alcuni alcuni subreddit c'è anche questa vicenda interessante che una gang ha rubato dei dati da Reddit dati privati dati corporate e insomma questo è un ransomware perché per riavere o per non pubblicare questi dati la gang ha chiesto a Reddit 4 milioni e mezzo di dollari ma non solo anche di non alzare il prezzo dell'API quindi c'è la richiesta c'è la richiesta cattiva cioè datemi dei soldi c'è anche la richiesta buona non alzate il prezzo dell'API per aiutare gli altri sviluppatori è un tentativo di captazio benevolenza verso la comunità degli sviluppatori non lo so quindi nell'articolo trovate un po' di dettagli su questa vicenda curiosa come curiosa è anche il fatto che da qualche giorno alcuni subreddit sono pieni di immagini pornografiche perché? perché i moderatori di certi subreddit ma non certi subreddit porno ma subreddit anche molto frequentati per tutt'altri motivi c'è mildly interesting o interesting as fuck che nonostante questo nome erano subreddit con notizie e immagini di cose interessanti aneddoti scoperte scientifiche o storiche e alcuni moderatori hanno deciso di applicare l'etichetta not safe for work a questi subreddit che vuol dire permettere di postare immagini appunto con questa etichetta che vuol dire aprire le porte a qualunque tipo di contenuto pornografico violento ma anche immagini e video questo anche tra l'altro toglie la possibilità di monetizzare la possibilità di mettere pubblicità in questi subreddit ma va bene questo è stato fatto naturalmente per protesta e se siete iscritti a questi subreddit vi sarete ritrovati nella home page alcune immagini taggate not safe for work e con insomma immagini interessanti in subreddit in cui non ve l'aspettavate e in tutta risposta reddit ha deciso di rimuovere i moderatori responsabili di questo piccolo cambiamento perché appunto in violazione della moderator policy che gli stessi moderatori avevano accettato anche se magari in modo leggero quando avevano appunto preso questo questo incarico quindi reddit ha iniziato a rimuovere alcuni di questi moderatori togliergli appunto i permessi sperando appunto che gli altri invece della della critica dei moderatori di questi subreddit intervenissero e bloccassero questa cosa poi a quanto si sa a quanto si legge dall'articolo alcuni sono stati reinstanziati quindi gli hanno ridato i permessi però ecco piccolo aggiornamento su come stanno andando le cose non bene non bene devo dire devo dire che c'è un c'è un certo fervento no? intorno a questo a questo social ormai e è sempre più divertente seguirlo mi ricorda quando seguivamo con interesse appassionatamente la vicenda di twitter no? che ogni giorno aggiungeva nuove cose frizzantine e anche reddit pare non voler essere da meno e siamo a dieci giorni dal primo luglio quindi dall'annunciato cambio di pricing dell'API e vedremo cos'altro ci riserverà questa notizia quindi grazie per avermi seguito anche oggi nonostante questo enorme caldo spero che insomma sia stato interessante anche la puntata del buongiorno di oggi vi ricordo anche di recuperare il continuous delivery che è uscito appunto ieri sera ma stamattina in podcast lo potete recuperare dove vi pare super interessante quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata che non sarà domani forse sarà venerdì vedremo o più realisticamente ci rivedremo la prossima settimana quindi fate i bravi mangiate tante fibre e bevete tanta acqua perché questo caldo vi potrebbe distruggere ciao